Donne verso Sassuolo Juve, le parole di Montemurro. Benvenuti nel canale. E siamo la Juventus e vuoi rimanere ben informato sulla Juve, iscriviti al canale e clicca il campanello in modo da non perderti nulla. L'impegnativa trasferta a Sassuolo di domenica 21 gennaio chiude una settimana molto intensa per la Juventus Women, tra mercato, momenti emozionanti in squadra e il passaggio del in Coppa Italia. Il signor Montemurro, come sempre, fa il punto della situazione. Una settimana piacevole, abbiamo potuto lavorare bene con la partita di Coppa, un'occasione utile per sviluppare alcune situazioni di gioco, oltre che positive per il risultato. La differenza del campionato con Samp ci fa pensare a come l'approccio mentale sia fondamentale, sia nella settimana che nel giorno della gara, e non solo, è la dimostrazione di come il calcio sia così. Non ci sono giochi scontati, ho visto in Italia salire ad un livello molto alto, abbiamo giocato uno sport moderno in cui non ci sono giochi più facili. Il segreto è non andare troppo lontano con la testa, e pensare sempre al prossimo gioco. Ogni settimana la Juve offre buone notizie e momenti importanti, in questa Arianna ha raggiunto un traguardo incredibile per il quale mi congratulo, è la conferma di quanto è cresciuta, sono anche molto felice per il rinnovamento di Sofia, che in questo periodo ha davvero dimostrato il suo valore, che può permettere di raggiungere livelli elevati. In generale, sono felice di vedere come cresce il gruppo, il cambiamento nel calcio è qualcosa che accade e deve essere affrontato, e vedere che la squadra è matura e reagisce nel modo giusto è qualcosa che mi rende molto felice del lavoro che stiamo facendo. Stiamo anche gettando le basi per i prossimi anni. I nuovi giocatori si stanno adattando bene, sul campo e non solo. Naturalmente stanno ancora scoprendo l'ambiente, ma hanno capito subito la Juve e la loro cultura. Non vedo l'ora di vederli nel gioco. Il Sassuolo è sempre stato una squadra impegnativa da affrontare, ha un buon allenatore e buoni giocatori e sa mettere tatticamente in difficoltà l'avversario, dobbiamo sempre rimanere concentrati.